E' un po' di te, invece! Ragazzi... C'è, c'è! Ma dici, sì, bambini oppure! No, ma anche... E' un po' di... Ma què tempo? Ma... Ragazzi... Ma chi sa per tutti? Ci si è chiascato eh? No! Allora vedi ti ho mamma... Vediamo il ragazzito, guarda il ragazzino sul palco! Spiepò! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti